Nicoletta fete Revisione Luca Feroldi Luca Feroldi Luca Feroldi Buonasera a tutti, è un piacere essere qui perché mi piace questo vocabolo alternativa. Il cuoco, uno, nessuno, centomila. Questo momento è una storia che voglio dedicare ai giovani che intraprendono una carriera e ripercorrere alcuni attimi e dargli un senso. Quindi per me alternativa è una parola importante che racchiude in sé tante caratteristiche e significati che portano tutti alla possibilità di altro, altri, altri. Alternativa ci fa respirare. Ovviamente alternativa è la possibilità di scegliere uno o l'altro. Alternativa è la possibilità di mantenere il nostro patrimonio ad ogni livello senza disperderlo, ma nello stesso tempo. Alternativa è la continua ricerca di altre strade e di evoluzione. Per scendere nel campo del food, l'alternativa ci mantiene integri nelle possibilità di scegliere nel variegato mondo agroalimentare mantenendo le biodiversità senza assolutamente fermare la ricerca di strade nuove, sviluppo e crescita. Alternativa in cucina è la possibilità di gustare ricette della tradizione rispettandole e mantenendole vive. Ma nello stesso tempo alternativa significa anche dare spazio all'apertura di strade nuove che consentano il formarsi e il consolidarsi di nuove tradizioni. Questo è molto importante. Alternativa, sempre secondo me, questo lo dico sempre, ci dovrebbe togliere dal pensiero l'imperativo si fa così e portarci piacevolmente al si fa anche così. Questo preambolo mi porta a pensare che oggi per me la parola alternativa si arricchisce di significati e assume un altro peso. Perché dico questo? Tanti di voi mi conoscono da vent'anni in tv, da chef, presidente, conduttore, autore e quanto altro, ma venti anni da quel momento che mi portano ad essere protagonista della nascita e crescita di una giovane azienda, io la chiamo giovane azienda, con venti anni di esperienza. Quindi mi piace proprio questo e dentro di me. Siamo partiti da lontano. Cosa facciamo nella nostra azienda? Azioni. Sono appassionato di etimologia. Quindi azioni deriva dal latino actus, aggira, operare, fare. Facciamo azioni gastronomiche. Chi lavora nel nostro gruppo, a me piace chiamarlo gruppo, e definire il noi. È un argomento molto importante nella ristorazione. Sono persone con competenze ampie che indossano la giacca bianca. Ma dove nasce tutto questo? Per raccontarvi ho preso spunto dal mio inizio, ecco perché dedico questo racconto soprattutto ai giovani che iniziano la loro carriera. Ma come nasce? Forse è la prima volta che lo dico. È la prima volta che faccio outing. Dalla mia grande desiderio di non fare il cuoco. Adesso ve lo racconto. È la prima volta in 35 anni di carriera che ammetto questa cosa qui. E uno nessuno centomila mi porta avanti. Partendo dal concetto bellissimo, che ognuno di noi è uno, unico, irripetibile, ancora e per fortuna, penso che dalla nascita abbiamo caratteristiche nate doni, talenti. Queste attitudini vengono modificate secondo eventi e percorsi. La scelta, quello che ci succede nella vita. Immagina una fitta rete di strade, conosciute e sconosciute. Io sono quello che cerca sempre quelle sconosciute. È un problema. Nei quali ognuno di noi diventa interprete nel bene e nel male. Per sintetizzare questo percorso vi dico che, perché ho fatto un'analisi per venire al TED, dico ma perché? Perché secondo me sono cresciuto nella musica, nell'artigianato, in una famiglia semplice e ingegnosa. Da piccolo ho sempre frequentato attrezzi, ingegni e musica. Questo mi ha portato ad essere un grande curioso, ma esazio di sperimentare e sapere. E alla fine delle scuole medie mi venne quasi imposta la scelta della scuola professionale. Non ero proprio contento, ma la mia famiglia e gli insegnanti pensarono al mio futuro da lavoratore. Mentre frequentavo l'alberghiero, questo lo dico proprio a braccio, ho fatto il gelataio, il dava piatti, l'aiutante cuoco, ma lo spirito è sempre lo stesso, cercare sempre qualcosa che mi facesse... Non riuscivo a pensare a un'operazione se non era conseguente a un pensiero. Cioè come faccio il gelato più veloce, come metto i gusti, dove lo prendo? Cioè proprio a 13 anni, a 14 anni, non parlo mai di mania perché è brutto, un'attitudine personale a ricercare sempre qualcosa in più. E nella mia vita l'hai scelta, ho incontrato uno chef importante per me che mi ha fatto entrare nel meraviglioso mondo professionale, ricco di tecnica, cura della persona, rispetto del posto di lavoro, degli altri, degli ospiti, con una continuità incredibile. Non a caso nella nostra azienda oggi c'è scritto non quel che comincia, ma quel che persevera. Dopo questa bella esperienza, ancora di più la voglia di lasciar perdere questo mestiere, ne feci altre negative. Incontrai chef, perché mi diedero modo di riflettere su chi non sarebbe voluto diventare in futuro, persone chiuse in un mondo quadrato che impartivano comandi imperativi con superbia, si fa così e basta, ai quali chiedevo spiegazione e quando mi rispondevano, lo facevano con soluzioni molto empiriche, il tutto confezionato con maleducazione di fondo e soprattutto tanta s'accenteria. Ed ecca ancora la riflessione personale, quel mondo quadrato, com'è possibile che ci sia una solo unica strada solo perché si fa così? Mai diventerò così, questo è il mantra. Nel crescere, sempre ancora giovane, ancora a 24 anni, ho iniziato a insegnare in scuole private pensando di sapere, un ignorante proprio che non sapeva niente, ho fatto corsi per amatori, ma questi corsi trovavo giornalisti, professionisti, architetti, tutte persone con una cultura alta e io da cuoco, tra virgolette, che dobbiamo trasformare questo cuoco in altro, la scuola alberghiera non è una scuola di serie B, ho iniziato a non lasciare quasi nulla al caso per quel che potevo, quindi ad ogni lezione, dopo aver preso delle legnate terribili, studiavo giorno e notte, in tutti, storie, ingredienti, aneddoti, varianti da raccontare. Questo fu quello che io chiamo il primo seme, ovvero il seme della cultura, essere consapevoli che coltivare la nostra cultura ci permetterà di evolvere e di iniziare a vedere il mondo un po' meno quadrato. Ovviamente questo era il semino piccolo e nonostante sono passati tanti anni, ancora oggi sento quotidianamente ignorante davanti all'infinito sapere, lo faccio anche nel mondo gastronomico, mi piacerebbe sapere sempre di più, ma poi il tempo è quello che ci è, in quegli anni, a 24-25 anni, ho fatto una carriera molto rapida, sono diventato consulente RAI, sono diventato designer per ECBO, ancora tutte le attività che facciamo, e quindi ho iniziato seriamente a pensare che il cuoco avesse nuove strade da percorrere, questo mi ha pesato tanto, ma non fa niente, perché io ci ho messo dieci anni a far capire ai giornalisti che non esiste solo il cuoco della ristorazione con la stella Michelin. Vi do la mia ricetta in tre minuti, secondo me sempre, perché non esistono imperativi, la ricetta alternativa per percorrere nuove strade, una ricetta semplice, sempre secondo me, essere curiosi e desiderosi del perché, essere consapevoli di sapere, di non sapere, avere innestato in noi il seme della conoscenza, coltivare la cultura, sapere apprezzare il sapore del sapere, sapore e sapere hanno una radice unica, è bellissimo, uscire dal mondo quadrato, abolire l'imperativo, si fa così, l'unico imperativo che dobbiamo abolire è l'imperativo, ed iniziare a pensare che si può fare anche così, uscire dall'ecocentrismo dell'I assoluto per aprirsi nuove strade, condividere il poco e il tanto senza il sapere, senza timore, vedere il bicchiere sempre mezzo pieno e prendere i fattori negativi, gli errori, come punto di ripartenza e rilancio, avere la forza ogni volta di accettare nuove sfide, non restare avvighiati alla tradizione, questo è nel cuore, come punto fermo, ma rispettarla e non aver paura di alimentare strade nuove, che un giorno daranno vita a nuove tradizioni, se non ci sono gli innovatori, come si creano tradizioni? Le tradizioni sono un punto d'arrivo, vanno fotografate anche in cucina, vengo criticato tanto, in cucina, essere coraggiosi di divulgare qualcosa che gli altri non fanno senza paura di essere criticati, avere il coraggio di non seguire il coro con degli inevitabili rischi, ma anche giusto provare nuove strade per avere la naturale evoluzione che devi distinguersi dalla moda del momento, questa è un'altra cosa, la moda è un'altra cosa in cucina, essere liberi da ciò che si sa senza farsi imbrigliare nelle evoluzioni future, oggi non è importante soltanto saper fare, già difficile per sé, ma anche sapere quello che si sta facendo, alternativa è il coraggio di vedere positivo nel tentativo continuo di trovare cose nuove dove gli altri non le hanno ancora viste, e per questo è l'ultimo punto che dedico ai ragazzi, l'alternativa è anche saper vedere il futuro prima ad occhi chiusi e trasformarli in realtà, grazie a tutti voi. applausi grazie 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 grazie